Incidente martedì sera in via Palù a Piombino Dese nell'Alta Padovana. Una dodicenne è caduta dalla bicicletta battendo la testa mentre era in compagnia di sua madre. Prontamente soccorsa dai carabinieri e dagli uomini del Suem 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, dove è al momento ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.